buonasera buonasera a tutto il mondo della palla a mano puntata in anticipo su YouTube e stream per questa settimana eh problemi di regia che sono andati a incastonarsi oggi e dunque dobbiamo per forza registrare in anticipo poi sarà il buon ottimo Enrico Milano domani mh martedì come al solito per le ore 19 a mandare in onda la trasmissione al completo con tutto ciò che è successo e che possiamo darvi da fin da fig.it la federazione italiana gioco handball e allora buonasera da Stefano Ballerini con me ovviamente anche Paolo Caselli che ha contribuito a redigere classifiche risultati e quant'altro partiamo con una notizia a livello nazionale e internazionale le qualificazioni per l'Euro duemila ventiquattro l'Italia gioisce al femminile anche a Chieti nella casa ormai della palla a mano sotterriamo la Lettonia 43 a 8 e conquistiamo il terzo posto del girone e dunque il bis è centrato da leggo ovviamente dal comunicato stampa di fig.it l'Italia batte 43 a 8 primo tempo tanto a poco 21 a 3 la Lettonia la casa della pallamano di Chieti e conquista il terzo posto matematica nel gruppo quattro di qualificazione agli Euro duemilaventiquattro che si giocheranno in Ungheria Austria e Svizzera secondo successo consecutivo delle azzurre brave a confermare e migliorare il 32 14 maturato giovedì scorso nella trasferta di Dobele classifica del raggruppamento ora con ovviamente la Francia in testa a punteggio pieno e già qualificata seguita dal duo formato da Slovenia Italia quota 4 ad aprire gli ultimi 120 minuti che decideranno le sorti del girone il successo ottenuto al centro tecnico federale rappresenta inoltre la vittoria di sempre più ampia della nostra nazionale femminile nelle varie qualificazioni europee 35 le reti di scarto di stasera domenica la partita si è giocata nel fine settimana appena trascorso superando il 37 a 18 ottenuto nel 2007 a plaza in Repubblica Ceca sempre contro la Lettonia vi do il il testuale delle dichiarazioni del CTDT commissario tecnico direttore tecnico chiamiamolo come vogliamo Giuseppe Tedesco delle nazionali femminile abbiamo fatto un grandissimo primo tempo a Dobele in Lettonia e avevamo chiesto alle ragazze di rimanere con l'intensità mentale anche nel secondo tempo di questa partita le ragazze hanno risposto sì hanno giocato benissimo avevano voglia di giocare avevano voglia di divertirsi questo l'avevamo chiesto fin dal primo giorno di stage e quindi c'era proprio bisogno di questa dimostrazione davanti al nostro pubblico giocandola è stata un'esperienza grande per loro ma anche per noi io ho sempre ho sostenuto che l'Italia non ha un parco di giocatrici così ristretto come qualche altra volta ha sembrato ci sono tante giocatrici che hanno una buona mentalità e che stanno crescendo nei loro club di appartenenza abbiamo avuto il piacere di vedere una nazionale vera e propria anche contando qualche assenza importante questo non può che far bene al nostro movimento abbiamo il sogno della qualificazione è giusto curlarlo abbiamo fatto quello che volevamo fare prenderci il terzo posto ci confrontiamo con le campionesse olimpiche campionesse del mondo ed è un confronto che può solo arricchirci abbiamo preso una bella lezione quando abbiamo giocato contro la Francia e contro la Slovenia secondo me potevamo stare un po' più vicini alle due nazionali nel punteggio ma è tutta una questione di quanto tempo abbiamo per lavorare insieme e per fare esperienza queste ragazze in poco tempo hanno già fatto un piccolo step vuol dire che a qualcosa serve stare più possibile insieme serve fare esperienza l'esperienza è fondamentale noi abbiamo arricchito le ragazze siamo usciti arricchiti come staff dalla conoscenza e dall'umanità di questo gruppo per cui queste le dichiarazioni del nostro DT il percorso della nazionale nel girone si concluderà con le sfide della quinta giornata contro le campionesse ridate della Francia il 3 aprile nuovamente a Chieti per poi completare il percorso il 7 aprile a Ljubljana contro la Slovenia il resto dell'articolo fa parte di quello che abbiamo già pubblicato su www.firenzeviolasupersportlive.it a proposito del pezzo settimanale della palla a mano per cui vi lascio a potervi rileggere tutte le altre dichiarazioni tutto quello che abbiamo inserito lascio la linea a Enrico Milano perché dentro il pezzo della partita c'è anche un video di fig.it che vi invitiamo a guardare con attenzione per cui mi rallento per qualche minuto dopodiché ci ritufferemo nella Serie A maschile nazionale Vittoria perentoria di un'Italia che batte la Lettonia la batte per la seconda volta consecutiva nel giro di pochi giorni si prende il terzo posto nel girone e rispetto alla partita di andata dimostra anche di aver fatto uno scatto mentale perché sono stati i 60 minuti interpretati davvero alla perfezione mi fa piacere questa sottolineatura abbiamo fatto un grandissimo primo tempo a Dobele in Lettonia avevamo chiesto alle ragazze di rimanere con l'intensità mentale anche nel secondo tempo in questa partita e le ragazze che dire hanno risposto benissimo avevano voglia di giocare, avevano voglia di divertirsi questo avevamo chiesto dal primo giorno di stage quindi c'era proprio bisogno di questa dimostrazione davanti al nostro pubblico 120 minuti ai quali arrivavamo sicuramente con qualche incognita perché le assenze importanti che questa nazionale aveva dovuto affrontare rappresentavano l'incognita anche in virtù delle tante novità inserite in organico adesso però hai delle certezze in più come direttore tecnico e hai la possibilità di variare anche di più l'organico tante giovani che non solo sono state visionate nei raduni adesso hanno anche giocato, hanno anche segnato e come dicevi tu si sono anche divertite con la maglia azzurra è stata un'esperienza grande per loro e anche per noi io ho sempre sostenuto che l'Italia non ha un parco di giocatrici così ristretto come qualche volta sembra ci sono tanti giocatrici che hanno una buona mentalità che stanno crescendo nel loro club e abbiamo avuto il piacere di avere una nazionale vera e propria anche contando qualche assenza importante questo non può che far bene al nostro movimento sappiamo che la situazione legata alla possibile qualificazione da migliore terza è veramente complicata intanto la Francia che gioca davvero un altro sport oggi ha battuto ancora in maniera larghissima la Slovenia 41 a 22 se non vado errato il risultato finale della partita giocata in Francia Slovenia che è venuta qui e comunque ci ha rifilato un passivo abbastanza pesante quindi è ancora comunque una squadra con la quale abbiamo un margine difficile da colmare però gli scenari legati alla qualificazione da possibile migliore terza rimangono aperti noi culliamo un sogno questo è un sogno che è giusto che le ragazze noi come staff noi come federazione possiamo cullare noi abbiamo fatto quello che volevamo fare prenderci il terzo posto ci confrontiamo con le campionesse olimpiche campionesse del mondo ed è un confronto che può solo arricchirci anche abbiamo preso una bella lezione quando abbiamo giocato a Vilnevdas con la Slovenia secondo me potremmo stare un po' più vicine nel punteggio ma è tutta una questione di quanto tempo abbiamo per lavorare insieme per far fare esperienze a queste ragazze queste ragazze nella seconda partita come avvio tu hanno fatto un piccolo step e vuol dire che qualcosa serve stare insieme qualcosa vuol dire serve fare esperienza l'esperienza è fondamentale e noi le abbiamo arricchite noi siamo arricchiti come staff dalla conoscenza e dall'umanità di queste ragazze la seconda vittoria consecutiva è interpretazione perfetta perché avevate vinto largamente anche in Lettonia ma sbagliando anche qualcosina in più oggi si giocava in casa ci tenevate non so se io l'avevo detto a Beppe Tedesco prima della partita non so se ve l'aveva detto ma questo divario è il miglior divario di sempre dell'Italia femminile nelle qualificazioni europee e innanzitutto ciao a tutti sì Beppe ce l'ha detto a Enzio in spogliatoio che c'era questo divario ovviamente siamo contenti dobbiamo migliorare tante cose perché ancora tuttora ci sono tanti sbagli anche davanti al portiere però rispetto all'andata è andata molto meglio anche secondo tempo siamo entrate con più sicurezza anche più voglia di fare bene ecco l'impressione è che vi siete divertite a stare in campo e quando ci si diverte soprattutto con la maglia azzurra credo sia una bella sensazione sì quello sicuramente ovviamente giochiamo per questa maglia dobbiamo dare sempre il tutto e penso e spero che anche il pubblico sia divertito a vederci giocare Francia fuori portata nella partita che giocheremo il 3 aprile Slovenia invece il 7 aprile perché siamo ancora in corsa come una delle possibili migliori terze Slovenia è comunque una bella squadra all'andata abbiamo fatto anche tanti errori quindi dobbiamo evitare questi errori di davanti alla porta comunque palloni persi e essere più compatte in difesa ma penso che se diamo il massimo possiamo benissimo farcela e dunque dando il tempo a Enrico Milano di inserire tutto passiamo alla Serie A Gold acuto di Conversano contro Merano Brixen torna al comando solitario della classifica e allora vediamo come Fing.it comincia il pezzo l'introduzione, la diciannovesima giornata restituisce la Serie A Gold ancora una volta un primato solitario davanti a tutti c'è Brixen o Bressanone ma già lo sapete 30 punti ma con un vantaggio che rimane risicato su chi insegue merito soprattutto della sedea group Fasano ritardo di appena un punto grazie al successo casalingo sul secca rubiera di garbugliare tutto pensa Conversano battuta l'Arperia Black Devils al pala San Giacomo in coda sorridono Trieste, Sparereppan, Diappiano e Pressano allora anche qui come al solito non stiamo a tediarvi oltre all'interno di questa corrispondenza intestuale c'è 5 o 6 righe dedicate da fighe.it a qualsiasi, a ciascuna delle partite in programma ve li potete leggere assolutamente io vado a riepilogarvi i risultati e la classifica Bolzano, Raimo Nega Sassari 28-26 Pressano Carpi 32-26 Conversani e Alperia Black Devils 34-26-26 Trieste, Cassano Magnago come non ho visto nulla come d'incanto altro 26-21 poi si parla di altri risultati Fasano, Secca e Rubiera 31-27 Sparereppan, Diappiano, Albatro Siracusa 31-29 Brixen Macaggi Cingoli la squadra che sta tanto simpatica al mio vice direttore Paolo Caselli 39-31 all'interno di questa tabulazione di risultati c'è accanto ad ogni risultato il tastino download se qualcuno di voi ha un idolo ha un giocatore che conoscete volete guardare i tabellini accanto a ciascun risultato pigiate il download e si aprono come magicamente tutti i tabellini delle partite la classifica aggiornata è Brixen 30 con una da recuperare Fasano 29 una da recuperare Alperia Black Davis 28 Bolzano 28 Converzano 27 una da recuperare Cassano Magnago 24 Sassari 23 Sparereppan, Diappiano 15 Maccabi Cingoli 12 con una da recuperare Albatro di Siracusa 12 Trieste 12 Pressano 9 Secchia Rubiera 7 Carpi 6 Ringrazio per la foto credit l'amico Luigi Cano primi verdetti anche in SRA Silver Salazzaro raggiunge Camerano già anticipatamente le due squadre sono ai playoff e qui taglio per la diagonale anche qui 6 7 righe di commento di fighe punto it per ciascuna partita io vi do solo i risultati San Lazzaro Tecno CEM Verde Azzurro Sassari 38 28 Chiaravalle Genea Lanzara 22 25 risultato a sorpresa Metelli Cologna Campus Italia 33 34 Camerano Romagna 26 21 Teramo Cus Palermo 28 27 San Giorgio Sul Molteno Orlando Enna 36 36 Camerano 31 San Lazzaro 25 le due squadre sono qualificate per i playoff San Giorgio Sul Molteno 22 Chiaravalle 22 Romagna 20 Metelli Cologna 18 Genea Lanzara 18 Orlando Enna 18 Verde Azzurro Sassari 12 Campus Italia 8 Cus Palermo 6 Lions Teramo 4 Qui per la fotocredit ringrazio la collega Sara Bozzoli arriviamo alla serie a bronzi il girone che a noi interessa purtroppo si paventa un'altra sconfitta in casa Tavarnelle il Bolloni il Follonica davanti ai propri tifosi fa l'1-2 vincente dopo la vittoria dell'andata questa volta Follonica vince 29 a 26 e allora andiamo a a vederlo il tabellino primo tempo 16-11 Follonica con Boni Giorgari 8 Orioli Ramanoschi 6 Ciurli Tassoni 3 Salioschi Coccoluto Tupailo Toninelli Pesci tenuto a 0 Zorzi 1 Cosia decide l'inaspettato Gangemi che ne fa 11 si ritaglia il titolo di MVP miglior giocatore in campo con 11 gol fa girare la vittoria profollonica allenatori il duo Matteo Pesci Luca Quintavalli rigori 7 metri per Follonica 3 su 3 Tavarnelle con i due in porta Gele Ciccecciani Borgiani ne fa 8 rimane in testa alla classifica marcatori Ben Iba attenzione ragazzino viene su bene 4 bombe imparabili 2 di Vermigli Vucci Bazzani Sing Del Mastio 1 per Muffini e poi rientra la coppia di quelli che non vede da una vita Bevanati 2 Francesco Provvedi 1 3 gol di Andrea Calosi 4 di Nardi 1 di Barbarito Silei allenatori il trio Raice Graziosi e Mori i rigori 1 su 2 e dunque e dunque brutta giornata per la nostra prima squadra Follonica che non riesce ad aggiudicarsi l'intera posta in palio per sognare ancora un po' di più adesso sarà fondamentale il prossimo match in casa con Casa Grande per confermare questa buona posizione di classifica in vista della partenza dei play out forza Tavarnelle e dunque nel giorno di rientro di una coppia d'assi che non si riveneva da tempo Bevanati 2 Francesco Provvedi 1 evidentemente stuzzicati dal potere e voler giocare il derby toscano molto sentito il Tavarnelle subendo però la seconda sconfitta consecutiva dopo quella di Bologna dall'addio alle speranze di Rimonda dovendo dedicarsi solo sin da adesso a costruirsi la miglior partenza per la seconda fase dei play out e in questo per far questo deve battere lo Spallanzani nel prossimo match interno al Bustecca Borgiani ne fa 8 è sempre primo in classifica marcatori pur riappaiato dal bravo pratese Carlo Liccese ma il Tavarnelle deve fare i conti sull'inatteso Gangemi che con 11 gol decide il match Follonica che andava a riposo sul più 5 16-11 ma Tavarnelle rimaneva sempre a portata di partita anche con i 4 gol del giovane di rompente Beniva non carichiamolo troppo di responsabilità che un 14enne non può portare i 4 di Nardi i 3 di Calosi ai 2 del rientrante Bevanato ai 2 di Vermigli ai 2 single di Varvarito e del rientrante come detto Francesco Provvedi ma non riuscendo mai a riprendere i Maremmani fino in fondo la classifica marcatori Edoardo Borgiani Tavarnelle 127 al suo pari Carlo Liccese di Prato 111 per Drudi Augusto Matteo del Bologna United 93 per Giorgari Thomas Zoltan di Follonica 76 di Nasufi Jonathan del Dertona allora andiamo a vedere i risultati del girone B allora Spallanzani Bologna United nel derby della Via Emilia 20 24 vince Bologna in trasferta Prato batte Modena 31 25 Follonica ci sconfisce 29 26 il Dertona batte il Marconi Jumpers 36 a 27 la classifica Bologna lassù imbattibile 24 Pallamano Prato secondo bravi Pratesi 18 Follonica 16 Pallamano Modena 14 Tavarnelle 11 non potrà prendere comunque Modena e comunque vado a finire ma dobbiamo salire perlomeno a 13 perché dietro c'è lo Spallanzani a 9 che se battesse il Tavarnelle lo raggiungerebbe a quota a 11 poi deciderebbe il doppio scontro infatti di gol fatti e subiti Dertona sale a 8 non potrebbe mai prendere però la pallamano Tavarnelle Marconi Jumpers rimane a 4 il campionato di Serie B maschile questi i risultati purtroppo arriva una inaspettata battuta d'arresto Monte Carlo batte Tavarnelle 23 21 termina questo weekend con la sconfitta di misura della Serie B 23 21 in trasferta con Monte Carlo con Grosseto Olympic Massa 40 33 Monte Carlo Tavarnelle 23 21 si gioca in posticipo mercoledì Medici appoggia Cagliano Carrarese la classifica che andrà ovviamente rimodulata Grosseto 16 Olympic Massa Marittima 12 Medici Poggia Cagliano e Mugello United del 10 Carrarese 6 Monte Carlo 6 Tavarnelle 4 punti qui abbiamo un po' di classifica dei marcatori della Serie B vediamolo Giacomo Gai 102 l'unico aver passato quota 100 dell'Olimpica Massa Marittima Francesco Pio del Giudice 97 per Grosseto Beniva ne ha segnati 68 in Serie B più i 4 siglati in campionato a Follonica 68 Giuseppe Pagano 49 Monte Carlo Nicola Sbardellati 47 Grosseto Giglio Andrea 46 per Medicea Mondesano Mattia 45 per Grosseto arriviamo a elencarvi solo coloro che ne hanno segnati 40 Alessio Righi 45 Olimpiche Massa Marittima Kalfallah Hamed Omar Ben Rahed 44 Medicea 41 Mazzanti Stefano Cararese 40 Haith Lamiri Fettà per Monte Carlo questi sono i marcatori della Serie B nel campionato Under 13 Tavarnelle Prato 23 a 13 dunque ottima prestazione dei nostri giovanissimi Under 13 che battono in casa la palla a mano Prato per 23 a 13 e allora questa è tutta la puntata di questa settimana registrata in anticipo per problemi di regia nella giornata di martedì ringrazio tutti coloro che ci seguono su YouTube sul Facebook di Firenze Viola Supersport Live .it .com lascio tutto quanto nelle mani di Enrico Milano che dalla sede centrale del canale 96 vi monta e vi riedige questa puntata nel solito orario di tutte le settimane ogni martedì alle ore 19 prima di Giovani Pianticelle Viola Crescono da Stefano Ballerini Paolo Caselli Enrico Milano è davvero tutto va in archivio la puntata registrata lunedì 4 marzo ma di martedì 5 di a tutto Enbol il nostro appuntamento settimanale su tutto quello che è successo sui campi di palla a mano di tutta Italia e non solo grazie arrivederci viva l'Enbol viva la palla a mano tabernale l'Enbol